Grazie a tutti Mi fa vivere delle emozioni incredibili, grazie Baron hai portato qui il tuo mezzo, la tua storia, la tua passione per il ciclismo Ovviamente qui in mezzo a questi ragazzi tu sei di casa Sì, innanzitutto complimenti agli organizzatori, a Gilberto che sa orchestrare alla grande con grande maestria Complimenti ai ragazzi, si stanno impegnando al massimo Sono orgoglioso di essere qui, se posso dare una mano lo farò sempre volentieri, grazie E siamo qui di casa con l'assessore serio a Cordenons Che ancora una volta si dimostra davvero accogliente e una casa perfetta per il ciclismo Noi ospitiamo volentieri questo giro del Friuli Per noi è veramente un onore, un'emozione avere tanti giovani nella nostra piazza Cordenons poserà sempre lo sport in bocca al lupo a tutti Per noi è un'emozione avere tanti giovani nella nostra piazza